È una bella giornata dedicata a Claudio Vittorini, grande chirurgo. Oggi la città dell'Aquila, non solo l'ASL lo ricorda, però nello specifico il reparto di chirurgia del nostro nosocomi aquilano, l'ospedale regionale San Salvatore, sarà dedicato e intitolato a lui. Abbiamo il piacere di avere nostri ospiti del format dentro la notizia di Telesirio L'Aquila, Roberto Vicentini che è il direttore del reparto, il manager dell'ASL Rinaldo Tordera e Vincenzo Vittorini, figlio del grande maestro Claudio. Io partirei proprio da Vincenzo con un doppio ricordo, diciamo così, Claudio chirurgo e Claudio papà. Claudio chirurgo e Claudio papà sono la stessa cosa e due cose diverse. Oggi innanzitutto io ringrazio Roberto Vicentini per questo evento, ringrazio l'ASL nella persona del direttore generale, ringrazio la città perché per me memoria è un qualcosa di importante, è un qualcosa di importante per la città, è un qualcosa di importante per tutti. Ricordare poi mio padre oggi è un qualcosa di bello, quindi è una giornata bellissima a distanza di vent'anni della sua scomparsa e quindi quando ricordo mio padre come chirurgo, lo ricordo inflessibile in sala operatoria, preciso, pretendeva il massimo in ogni momento e con dedizione estrema verso i pazienti. Come padre gli debbo tutto alla stessa maniera di come allievo e quindi lo ricordo e lo ricorderò per sempre. È una bella cosa che l'Aquila dopo vent'anni, a vent'anni dalla scomparsa, ricordi comunque un medico che è stato però un maestro della chirurgia. Ha testimonianza che l'Aquila ha avuto e ha delle eccellenze importanti nel campo della medicina? Certamente, l'Aquila ha sempre avuto, mio padre è una delle eccellenze aquilane, ma la chirurgia aquilana oggi può contare su colleghi che l'hanno fatta andare avanti in maniera eclatante perché oggi, come vi dirà il dottor Vicentini, si è arrivati a fare cose nell'ambito chirurgico che forse una volta erano impensabili. Quindi l'ospedale dell'Aquila è una fucina di chirurghi e fa parte della bellezza della chirurgia italiana. Vincenzo Vittorini ci dava il là per un'altra domanda. Innanzitutto questa intitolazione che rappresenta sicuramente un bel riconoscimento alla persona e al professionista. Poi Vincenzo Vittorini nominava i traguardi raggiunti da questo reparto. È di questi giorni tra l'altro un intervento molto importante effettuato proprio all'ospedale San Salvatore. Quindi io chiedo anche a lei di parlarci di questi aspetti. Claudio Vittorini, maestro di chirurgia e poi l'eccellenza del reparto in questo momento. Claudio Vittorini, maestro di chirurgia, è stata sempre una figura di riferimento per la città come chirurgo, conosciuto sia a livello però locale che abruzzese e nazionale. Tant'è vero che oggi dovrebbe venire anche il professor Santoro, che è stato presidente della SIC e della COI, una figura di riferimento e di spicco a livello nazionale, che era amico e collega del professor Vittorini, che è stato anche il mio maestro, che ha iniziato con lui la carriera. Per quanto riguarda abbiamo cercato in qualche modo di emularlo, di continuare quello che lui ci aveva insegnato. Adesso siamo una chirurgia d'avanguardia, o almeno pensiamo di essere arrivati a una chirurgia d'avanguardia, soprattutto su quanto riguarda fegato, pancreas, queste patologie più complesse. E questo è grazie anche al direttore generale, che ci conforta quando serve un supporto sia medico, che ce l'ha dato, richiesto da noi, e tecnologico, tipo il robot, che non è una cosa da poco tempo. Mi ha dovuto combattere anche contro alcuni pregiudizi, non posso andare avanti, perché se no... Ecco, comunque un reparto che si conferma all'avanguardia e, insomma, in un momento di tagli si investe, diciamo, sull'eccellenza. Sì, questo è dovuto, però grazie anche ai miei colleghi, che fanno molte ore di più, ci hanno ferie arretrate, e perché siamo in pochi, e cercheremo adesso di farci dare qualcosa in più da direttore generale, per poter migliorare comunque, non per poter fare altre cose. Ecco, quale migliore occasione, insomma, il manager purtroppo, diciamo che viene sempre sollecitato su questi aspetti. Il nosocomio è sicuramente un'eccellenza, ha dei validissimi professionisti, è un periodo di carenza di risorse, è un periodo in cui, fate i conti, direttore Tordera, con molti tagli. Però lei ha sempre detto, sì, è un periodo difficile, ma questo ospedale ha delle eccellenze, vanno valorizzate. Oggi parliamo di chirurgia, ma ce ne sono tantissime altre, e quindi è importante anche investire in questo campo. Assolutamente sì, infatti l'occasione della giornata di oggi, del ricordo di Claudio Vittorini, morto vent'anni fa, qui nella nostra città, è proprio quella di fare una profonda e grande riflessione sulla situazione della chirurgia nella nostra azienda. Sottolino e dico nella nostra azienda e non soltanto nell'ospedale San Salvatore, perché l'attitudine, la vocazione che l'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale San Salvatore ha, è proprio quella di esportare la sua professionalità anche negli altri ospedali della nostra provincia. Questo potrà avvenire in maniera importante, di fatto è già avvenuto, con il dottor Roberto Vicentini, grazie all'acquisto del famoso robot Da Vinci, che è un investimento importante, è un investimento milionario, ma è un investimento che consente a loro, valentissimi professionisti cresciuti ad una scuola valentissima, perché prima ancora di Claudio Vittorini c'erano Ribotta, Professor Ficarra e Professor Paride Stefanini, che è stato il nome tutelare della chirurgia forse europea, non soltanto italiana. E quindi tutti loro sono cresciuti con questi grandi maestri. Oggi la responsabilità che Vicentini e tutta la sua echipe, e anche Vincenzo Vittorini, fa la sua parte, sia pure in un altro ospedale, però con le stesse problematiche, con le stesse aspirazioni che si hanno qua all'Aquila, è quella di gestire questo passaggio generazionale, passare il testimone a chirurghi più giovani, di 15-20 anni più giovani di noi, con delle tecnologie diverse. Ed è questa la fase che loro stanno gestendo, è una fase molto entusiasmante che loro, Vincenzo e Roberto, hanno voluto celebrare ricordando Claudio Vittorini. Bene, grazie al direttore Tordera. Ho iniziato con Vincenzo, termino con Vincenzo. Se c'è qualche aneddoto di Claudio che magari puoi raccontarci. Quando mi strillava in sala operatoria, quando sbagliavo una mossa in sala operatoria, erano dolori, perché non solo c'era l'urlo, ma a volte c'era anche la botta con il ferro chirurgico. Però quelli sono momenti indimenticabili nella storia chirurgica di ognuno di noi. Sono momenti che nel momento in cui prendi uno strillo, un urlo, stai male, però poi rifletti. E poi sono momenti che invece ti fanno crescere professionalmente. Grazie a tutti. Bene, ringraziamo Vincenzo Vittorini, anche il direttore del reparto Vicentini e il manager Tordera per la loro presenza per questa intitolazione al maestro Claudio Vittorini. Dentro la notizia termina qui, alla prossima puntata.